Bene arrivato, e altrettanto un grosso grazie a Carlo Colombo del quotidiano storico La Prealpina che questa sera ci aiuta ad introdurlo e poi a porgli le prime domande nella speranza che ne abbiate molte anche voi. Quindi a tutti una buona serata e a nome dei soci della Busto Libri siamo felici di avervi qui con noi questa sera. Grazie Francesca, un saluto a tutto il pubblico. Io mi limito a introdurre brevemente l'ospite di questa sera, Giulietto Chiesa. Due parole per chi non lo conoscesse, giornalista dal 79 e ha fatto tutti gli anni 80 come corrispondente da Mosca per il quotidiano L'Unità. Dopo aver avuto una serie di collaborazioni a livello giornalistico, nel 2004 sei stato eletto al Parlamento europeo con la lista di Pietro Occhetto. Già nel 2001, a seguito degli attentati dell'11 settembre, si è uscito con un volume in cui cerchi di raccontare una verità scomoda, diciamo alternativa rispetto a quella che il pubblico comunemente può attingere dai mezzi di informazione. Successivamente ai fatti di Parigi dello scorso anno, l'attentato a Charlie Hebdo, ha pubblicato questo libro che andiamo a presentare questa sera. È arrivata la bufera, in cui sostanzialmente ripropone quelle teorie che già aveva illustrato a proposito dell'11 settembre, partendo da alcune incongruenze, esattamente come era successo per i fatti americani. Alcune incongruenze che non collimano e che lasciano spazio a interpretazioni che Giulietto si sforza di collegare in un quadro di sicuro interesse. Per alcuni può essere inquietante, per altri semplicemente immaginifico. Sicuramente è di indiscutibile fascino. Ti hanno dato del complottista, poi magari spieghiamo anche meglio questa parola, se ti riconosci in questa definizione. Prima di lasciarti la parola per chiederti di iniziare proprio da quelle incongruenze degli attentati a Charlie Hebdo che hanno dato il là alle riflessioni che troveremo in questo libro, ricordo che è in pubblicazione in Francia, la traduzione francese di questo libro, che sarà aggiornata con capitoli riguardanti i fatti più recenti di Bruxelles. Arriveranno anche in edizione italiana? Grazie intanto, buonasera a tutti, sono molto contento di essere qui. Soprattutto sottolineo che vorrei una discussione, nel senso che ci sono domande. Io dirò delle cose che, lo so per esperienza, molti di voi non sanno. E non sanno non perché sono colpevoli, ma perché non possono sapere. Non le sanno perché i nostri media ce ne nascondono in modo sistematico, organizzato, fino al punto che dopo aver vissuto 40 anni in mezzo ai media mi sono ormai convinto assolutamente che il sistema mediatico nel quale voi vivete è fatto apposta perché voi non sappiate niente. non c'è nulla di casuale in questo, è fatto apposta per, diciamo così, manipolare la grande massa della popolazione che non può accedere all'informazione. Questa è la mia convinzione, naturalmente tutta la mia vita professionale è nella direzione di smascherare questi che io chiamo farabutti, la parola adatta è questa, disonesti o ignoranti. oppure naturalmente interessati a nascondere la verità. Allora, comincio a dire però due o tre cose perché devono essere spiegate. Il libro non è soltanto la parte dei misteri di Parigi. I misteri di Parigi racconto cosa io credo sia accaduto o le domande che vi pongo su ciò che è accaduto. Ma in realtà il libro è un libro molto più impegnato, diciamo così. Il titolo è Invece della catastrofe, infatti è uscito per la prima volta col titolo Invece della catastrofe. Chi legge questo libro si rende conto del perché io sono arrivato alle mie conclusioni. Io ho un'ipotesi su quello che sta per accadere. Io ho un'ipotesi molto precisa. Naturalmente è un'ipotesi perché riguarda il futuro. Ma è fortemente motivata. Allora, se uno ha voglia di leggersi questo libro, si lega le mie ipotesi. Perché io prevedo che la bufera sta arrivando. E so perché sta arrivando. E metto in guardia la gente. State attenti perché voi non sapete che sta arrivando la bufera. E quindi vi arriverà addosso. E se non sapete sarà difficile che possiate difendervi. Quindi tutto quello che sta accadendo sta dentro la mia ipotesi. Io ho cominciato con l'11 settembre perché ho capito che ciò che ci raccontavano dell'11 settembre del 2001 era falso. Ho intuito. Ho cominciato a dubitare. Non avevo nessuna prova. Mi sono messo a studiare. E man mano che studiavo scoprivo che le mie ipotesi erano fondate. E cioè che la versione ufficiale che è stata data del complotto dell'11 settembre complotto perché la versione ufficiale è la versione di un complotto. Ci hanno detto che Osama Bin Laden nella sua grotta afghana con l'aiuto di 19 terroristi islamici ha realizzato il più grande attentato mai accaduto nella storia dell'umanità. Pensate un po'. Un complotto. Non sono io che uso la parola complotto. Quello è un complotto. Il mio lavoro è consistito essenzialmente quando dico mio dico il mio e di centinaia e centinaia migliaia di analisti come me che in giro per il mondo lo fanno da tempo quindi siamo in tanti non sono io solo matto. Ho scoperto che quello che ci avevano raccontato era falso e pian piano che andavo avanti nell'analisi scoprivo che era sempre più falso palesemente falso e poi la terza domanda che mi ponevo era ma come mai tutti i miei colleghi non vedono quello che vedo io? Come si spiega che tutta la stampa tacce su questa cosa quando è clamoroso gridano le cose che noi abbiamo scoperto sull'11 settembre? Ci ho fatto anche un film Zero indagini sull'11 settembre che nessun canale della televisione italiana ha mostrato naturalmente ma nessuno sa che questo film lo dico così è il film che è stato più visto nel mondo negli ultimi 20 anni 35 milioni di spettatori hanno visto questo film in giro per il mondo ma gli italiani non l'hanno visto hanno visto quelli che hanno comprato il DVD ma tutti gli altri non l'hanno visto mentre 35 milioni in tutta l'area russa sovietica ex sovietica che parla in russo hanno visto il film in tutti i canali è andato con un enorme successo di pubblico tant'è che io sono popolarissimo in Russia in Kirchizia in Kazakhstan in Uzbekistan in Turkmenia perché tutti hanno visto il mio film guarda che stranezza là l'hanno visto tutti qua nessuno perché non è buono buonissimo il film è ottimo soltanto che è stato vietato ecco quindi finisco velocemente questo discorso per dire come mi invitavi a fare sono complottista che cos'è cosa vuol dire la parola complottista un giornalista che si rispetti deve studiare i complotti se non studi i complotti non è un giornalista il potere fa i complotti a tavola raccontavo c'è un bellissimo libro di Umberto Eco non reclamizzo me reclamizzo lui defunto buonanima grande scrittore l'ultimo libro che ha pubblicato è titolato numero zero leggetevelo è un libro interamente dedicato ai complotti del potere interamente dalla prima all'ultima riga quindi i complotti esistono in Italia noi siamo siamo l'ultimo paese che potrebbe stupirsi di questo che dovrebbe stupirsi noi l'abbiamo visto il complotto un grande complotto in Italia si chiamava la strategia della tensione i più giovani non se lo ricordano ma i più anziani lo sanno quando si cominciarono a esplodere le bombe in Italia 1969 a Milano piazza Fontana la strage alla banca dell'agricoltura noi abbiamo visto una lunga striscia di sangue bombe bombe e l'interpretazione che venne data da tutti i mass media fu i rossi i rossi e gli anarchici e tutti i giornali ci dissero e tutto il mondo pensò che erano gli anarchici e poi ci fu ripeto una lunga striscia di sangue la bomba alla stazione di Bologna la bomba di Brescia le bombe sull'Italico una cosa tremenda per 15 anni l'Italia fu attraversata dalla strategia della tensione e tutti i media ci dissero che erano i rossi che erano le brigate rosse fino al rapimento di Aldo Moro e all'uccisione dei cinque uomini della scorta tutti pensarono compresi i magistrati che dovevano fare le indagini che fossero i rossi che mettevano le bombe ma adesso noi sappiamo che non era vero sappiamo che invece le bombe erano state messe dai servizi segreti italiani deviati e che gli esplosivi che erano stati dati per far saltare quelle bombe per uccidere gli innocenti venivano dai campi della Nato cioè dagli Stati Uniti d'America vedete quindi noi l'abbiamo già sperimentata questa cosa la conosciamo a memoria quelli che hanno un po' di memoria e quindi quando io vedo questa serie di attentati la prima cosa che penso è ma chi li fa ma chi li organizza perché soprattutto io vedo che tutti i media ci dicono che sono gli islamici cattivi e io dubito prima cosa dubito poi vado a studiare e poi scopro che sì sicuramente sono in questo come erano del resto le Brigate Rosse via le Brigate Rosse anche loro erano convinti di fare la rivoluzione però poi si scopre che in mezzo alle Brigate Rosse c'erano degli agenti dei servizi segreti americani c'erano gli agenti dei servizi segreti italiani deviati quindi non basta che ci sia la mano d'opera che fa l'attentato non è sufficiente per capire la mano d'opera c'è certo che c'è è pieno di mano d'opera pronta a farsi saltare per aria se riflettiamo due minuti lo capiamo così entriamo nel merito della questione poi finisco subito e sentirò le vostre domande certo che c'è la mano d'opera ma chi l'ha creata la mano d'opera islamica noi abbiamo distrutto un paese islamico dall'altra parte del Mediterraneo nel 2011 noi noi i nostri aerei sono andati a distruggere la Libia insieme ai francesi agli inglesi con la copertura degli americani noi abbiamo creato l'ondata prima noi stiamo creando l'ondata numero due della Siria noi abbiamo inventato i dittatori sanguinari sulla base del quale ci siamo arrogati il diritto di andare a bombardare milioni di persone islamiche certo certo islamiche io ho fatto per cinque anni il deputato europeo non è che me ne vergogno perché io non avevo potere in quanto deputato europeo ma lo vidi lo vidi benissimo la nostra politica verso l'Africa è una politica di rapina e di ingiustizia noi abbiamo creato la miseria noi abbiamo creato la miseria in quei paesi senza nessun dubbio e continuiamo a crearla noi abbiamo finanziato i nostri agricoltori perché potessero vendere a quattro lire distruggendo l'economia degli esportatori del nord Africa allora certo che c'è la mano d'opera islamica ma certo che c'è la mano d'opera islamica dobbiamo chiederci com'è nata questa mano d'opera islamica sicuramente anche con il nostro contributo quindi primo c'è la mano d'opera ma io dopo aver studiato la mano d'opera e aver cercato di capire guardo bene come stanno le cose per esempio tutti i terroristi islamici che hanno partecipato all'attentato Charlie Hebdo a Parigi che poi hanno partecipato all'attentato del 13 di novembre del 2015 e che poi hanno partecipato quasi tutti all'attentato di Bruxelles i due attentati di Bruxelles erano tutti pregiudicati tutti cosa vuol dire pregiudicati vuol dire che erano già stati in galera che erano stati arrestati che erano quindi sotto controllo della polizia non sto dicendo delle novità semplicemente sottolineando le cose che posso dire con certezza tutti pregiudicati e siccome noi sappiamo come funzionano le polizie i servizi segreti sappiamo benissimo che se uno viene arrestato va in galera poi viene interrogato poi gli si dice magari e lo si fa sempre adesso tu lavori per noi perché se no andrai in conto dei guai ma questi erano tutti giovanotti faccio solo qualche esempio perché poi leggete chi ha voglia vedrà ma la quantità di domande che viene fuori è gigantesca e non si spiega con quello che ci hanno raccontato non si spiega con quello che hanno scritto i giornali il cervello degli attentati di di Bruxelles Salah Salah Abdeslam ma andate a vedere ma la sua biografia l'abbiamo letta o meglio io l'ho letta lui e suo fratello fino a una settimana prima degli attentati di Parigi novembre del 13 novembre dell'anno scorso erano proprietari e tenutari di un bettola nel quartiere di Molenbeck a Parigi che si chiamava la Beguin dove si commerciava droga tutte le sere dove c'erano le prostitute dove circolavano tutti i poliziotti belgi là dentro non siamo mica nati ieri il mio bestiere è quello di dire le cose come stanno e questi due che fino a una settimana prima del 13 novembre erano due malfattori noti alla polizia schedati sotto controllo diventano dei kamikaze islamici non vi scappa da ridere? a me scappa da ridere ma tutti i giornalisti che hanno scritto tutti i giornalisti dal primo all'ultimo sui nostri giornali questa cosa qua non se ne sono accorti bravi ammazza che bravi non saranno complottisti ma mi sembrano un po' tonti francamente poi un'altra cosa per dire tanto sollecito le vostre attenzioni quanti di voi sanno che dei quattro attentati kamikaze che si sono uccisi quel giorno quella sera del 13 novembre del 2015 uno dei quali era il fratello di Salah Abdeslam che si è salvato l'unico bene abbiamo la singolare situazione ve la voglio descrivere perché io credo che chiunque dovrebbe rendersene conto abbiamo la singolare situazione documentata non da me ma dai servizi segreti francesi dai poliziotti francesi dalla gente che ha riferito le notizie eccetera eccetera quindi io riferisco le notizie che ci hanno dato loro cioè le notizie ufficiali quattro kamikaze si mettono dell'esplosivo addosso non so come in che circostanze e vanno a Parigi per che cosa che cosa fa il kamikaze il kamikaze va per uccidere della gente se no perché si ammazzerebbe domanda se io sono un kamikaze vado per esplodermi ma uccidere il più possibile di infedeli si o no? si? mi sembra logico o sbaglio? bene allora vi do il bilancio dei quattro kamikaze del 13 di novembre del 2015 un morto oltre loro naturalmente quattro sono morti un morto oh interessante come mai è avvenuto questo? mi pare che invece di avere una strage abbiamo una mancata strage una totale quattro volte una mancata strage allora il primo dei quattro va vicino allo stadio dove dentro ci sono 80.000 persone e il presidente della Francia ma arriva a ritardo arriva a ritardo lo fermano agli sportelli lui torna indietro fa 20 metri e puff esplode e muore un passante di vicino e già vabbè è andata male il secondo anche lui va allo stadio anche lui carico evidentemente di esplosivo ma i testimoni che lo vedono da lontano lo vedono esplodere sul marciapiede da solo vicino alla vetrina di un negozio e il negozio la vetrina del negozio non si rompe neppure muore lui ma la vetrina rimane incrinata e basta e due il terzo racconta un poliziotto che lo vede scappa sta scappando e va a finire in un vicolo cieco dove esplode anche lui e sono tre da solo scappa non vi sia abbastrana questa descrizione che uno si mette la cintura cosiddetta esplosiva poi scappa da dove scappa sta morendo deve morire è andato lì per morire scappa da dove va in un vicolo cieco e si muore da solo e il quarto è il più comico di tutti va in un in un bar del boulevard Voltaire sulla terrasse cioè fuori sul marciapiede si siede e dice madame mademoiselle chiamala chiamala commessa la commessa si avvicina e puff esplode anche lui non è che grida Allah o Akbar no esplode e basta e non ammazza neanche la cameriera perché questa si è avvicinata ma viene solo ferita al ventre e rimane viva allora quattro kamikaze si uccidono senza uccidere nessuno vi pare credibile? a me no io non ho una risposta potrei fare cento ipotesi ma non ho una risposta ma nessuno si pone la domanda io mi dico ma vogliamo schiacciare c'è qualche cosa che non funziona e poi vabbè l'ultima cosa più clamorosa che io ho chiesto sollevando l'indignazione di Peter Gomez del fatto quotidiano chi di voi ha visto la gabia se ne sarà reso conto l'ultima trasmissione dove sono stato invitato io dico ho detto a Gomez ma lei lo sa anzi tu lo sai ci diamo del tu tra colleghi tu lo sai che l'indagine dello Charlie Hebdo è stata fermata dal governo francese a ottobre dell'anno scorso cioè un mese prima dell'attentato di novembre a Parigi invocando il segreto militare lui mi guarda in televisione durante la trasmissione mi dice ma io non lo sapevo i miei collaboratori non mi hanno informato ah non lo sapeva ma non lo sapeva neanche il Corriere della Sera non lo sapeva neanche la stampa non lo sapeva neanche Repubblica nessuno ha pubblicato questa notizia io l'avevo pubblicata cosa sono Mandrake Nembo Kid io leggo cerco le notizie ma loro non l'hanno pubblicata la notizia allora la domanda è questa come mai come mai tutti i giornali tacciono sul fatto più clamoroso di tutti cioè che il governo francese mette il segreto militare badate bene non il segreto di Stato il segreto militare e blocca l'indagine su Charlie Hebdo per coprire chi? i terroristi? i terroristi sono morti sono morti tutti allora chi vuole coprire il governo francese? forse qualcuno che ha partecipato nei servizi segreti francesi? o forse qualcuno di qualche altro servizio segreto? fate un po' voi io non lo so perché io non sono un inquirente però mi pongo la domanda quindi la storia è sporca la storia di Charlie Hebdo è molto sporca inquinata la storia dell'attentato il 13 novembre è sporchissima lo dico ai più giovani ce ne sono tanti qua pensate soltanto dentro il Bataclan c'erano secondo alcune fonti tra 600 e 700 persone tutti i giovani andavano a sentire hard rock e avevano in tasca tutti sicuramente questo qui questa roba qui tutti ce l'avevano in tasca tutti ce l'avevano in tasca ma c'è una cosa stranissima che è accaduto quella sera al Bataclan di tutto quello che è accaduto al Bataclan sono morte un sacco di persone sono morte 100 persone non c'è una sola fotografia anzi o meglio c'è una sola fotografia del Bataclan una sola fotografia al mondo non vi sembra strano viviamo in un'epoca dove c'è una qualunque manifestazione qualunque cosa che avviene un incidente c'è sempre qualcuno con la fotografia con l'apparecchio che fotografa e lo mette subito su Youtube perché è istantaneo nessuna fotografia su Youtube una sola fotografia pubblicata da tutti i giornali ma dove viene questa storia come si spiega l'ho chiesto a 500 amici miei e tutti dicono non è possibile e allora bisogna trovare una soluzione io non credo che non ci sia neanche una fotografia oppure se non c'è neanche una fotografia vuol dire che al Bataclan è successo qualche cosa che non ci hanno detto qualche cosa di diverso i morti ci sono stati sicuramente ma è successo qualche cosa d'altro che non ci dicono che ha impedito per esempio alla gente che era là dentro di fare una sola fotografia mi pare che sia una domanda importante come mai nessuno si è posto queste domande ecco allora ho finito la mia introduzione era solo per come dire stimolare i vostri interrogativi dopo di che ho detto la seconda parte del mio libro io credo che noi stiamo andando io interpreto così e questa è un'interpretazione e non è un fatto questa che vi sto dicendo adesso non è un fatto è la mia interpretazione probabilmente opinabile io credo che questi attentati siano una serie di una grande operazione politica tendente a mettere in ginocchio l'Europa e a sottoporre l'Europa al dominio esterno questo dominio è chiaro da dove viene sono gli Stati Uniti d'America gli Stati Uniti d'America sono nella più grave crisi della loro storia gli Stati Uniti d'America sono il paese più indebitato del mondo non potranno mai più ripagare il loro debito gli Stati Uniti d'America hanno già approvato le nostre leggi bancarie e ci stanno distruggendo economicamente perché l'Europa ha accettato le loro leggi quanto dura questa storia quanto ci vuole perché noi assistiamo al crollo dell'impero io credo non molto posso sbagliarmi perché l'impero è ancora molto potente molto armato ma io credo che noi stiamo assistendo alla fine dell'impero e all'inizio di una nuova fase le cui proporzioni saranno sicuramente catastrofiche perché? ma è molto semplice perché e questo vi rivolgo a voi perché voi facciate un semplice esame di coscienza noi ci dimentichiamo spessissimo che all'inizio del secolo scorso la popolazione cioè nel 1901 la popolazione della terra era di un miliardo e duecento milioni di persone alla fine del secolo scorso nel 2001 per l'appunto la popolazione della terra è diventata sette miliardi di persone e questo cambio senza precedenti nella storia dell'uomo sette volte è aumentata la popolazione della terra ha cambiato tutti i parametri l'impero americano ha dominato due terzi del secolo scorso adesso i dirigenti americani i più matti i più dementi io credo che ci siano là in quel paese molti dementi dei quali dovremmo avere paura ripetono una cosa che è senza senso e cioè che il ventunesimo secolo ha da essere il secolo americano a tutti i costi anche Obama l'ha ripetuto noi siamo una nazione esclusiva insostituibile che è come dire che tutti gli altri invece sono sostituibili non so se è chiaro ma è un'idea folle io la ritengo di fatto la dichiarazione di guerra al resto del mondo perché in questo pianeta c'è la Cina per esempio che è un miliardo e mezzo di individui e che è diventata già il paese più potente del mondo noi non ci ne accorgiamo noi anche qui a Bustarsizio pensiamo di essere forse al centro del mondo ma noi non siamo più da tempo il centro del mondo ci sono ormai dei giganti che si frappongono all'occidente all'America e ormai sono diventati forti la Cina fra poco sarà la vera grande potenza del pianeta e quindi il ventunesimo secolo sarà il secolo cinese con buona probabilità il secolo americano ma prima della Cina c'è la Russia la Russia è l'unico paese al mondo che ha in questo momento il potenziale strategico per distruggere il suo avversario cioè gli Stati Uniti d'America e quindi noi dobbiamo stare molto attenti perché il calcolo di fare il ventunesimo secolo americano è un calcolo senza senso è una dichiarazione di guerra al resto del mondo e quindi noi rischiamo di andare in guerra io infatti non lo dico qui apertamente ma l'ho detto nell'ultimo libro che ho scritto che vedrete fra poco si chiamerà Putin-fobia noi arriveremo e siamo già sull'orla della terza guerra mondiale ecco perché la questione della bufera che arriva se andiamo avanti così e non capiamo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. La terza domanda ve la fate da voi. Come mai non lo spiegano? Come mai non sollevano questi interrogativi? Sono l'unico? Non sono l'unico, è pieno di gente che la pensa così. Ma stanno tutti zitti. Hanno paura di perdere il lavoro, di perdere i loro privilegi. Non lo so, facciano quello che vogliono. Io sono già abbastanza vecchio per non avere queste preoccupazioni. La domanda però resta, che diavolo dicono, che diavolo fanno le nostre televisioni? Che cosa sanno 60 milioni di italiani di tutto questo? Niente, niente. Tra l'altro, noi qui siamo tutti intellettuali. Siete tutti intellettuali. Siete venuti a ascoltarmi? Vuol dire che siete gli intellettuali. No, è evidente. Ma fuori da qui, quanta gente, non dico che sa, non mi pongo neanche il problema di se sanno. Il problema è che non conoscono neppure l'esistenza di questi problemi. Sono privi della conoscenza elementare, perché nessuno gli ha mai spiegato che cosa sta succedendo nel mondo contemporaneo. Il cambio di marcia del mondo in cui viviamo. Ecco, ho finito. Spero di avervi rovinato la digestione. Intanto che il pubblico pensa delle domande che invito a rivolgere a Giulietto, ti volevo invitare magari ad ampliare un po' il raggio, dato che poi alla fine si è parlato di Francia, del coinvolgimento precedente della Francia nella operazione in Libia e poi anche di guerre, che ovviamente a parlare di guerre inevitabilmente si pensa al Medio Oriente. Sei stato, o sbaglio, in Siria ultimamente a dare un occhio, insomma a vedere di persona che cosa succede. È sicuramente una delle situazioni più, passatemi il termine, ingarbugliate, anche difficili da interpretare, da capire chi ci sia dietro l'ISIS, questi terroristi da chi prendono le armi, da chi siano foraggiati. Ecco, che idea ti sei fatto della situazione? Sì, grazie per la domanda, è molto interessante, riempie il tema. Allora, vediamo lo schema, lo schema su cui lavora la gran parte della gente, perché viene imbeccata a ragionare sulla base di questo schema. Allora, il terrorismo è ISIS o Daesh, chiamatelo come vi pare, Ighil, ISIS, Daesh, come si chiama, al-Darkavi, il califo, eccetera, eccetera. Questa è la descrizione che tutti abbiamo sentito ripetere in tutti i talk show che vediamo sulle nostre televisioni. Bene, allora, io prendo per buona la cosa. Il terrorismo viene da Daesh, quindi le bombe chi le ha messe? A Parigi 1, a Parigi 2, a Bruxelles, chi è che ha messo le bombe? Daesh, terroristi, sono loro. Sì, prendiamolo per buono. Bene, allora vediamo chi è Daesh. Ce la vogliamo porre alla domanda, chi è Daesh? Allora, Daesh è un esercito che è stato valutato tra 70, 50 e 70 mila uomini. Domanda, chi paga? Perché per fare un esercito di 70 mila uomini, qualche immagine l'abbiamo vista, le colonne sterminate di questi Toyota con le mitragliatrici pesanti sulla parte posteriore, i carri armati, i blindati, le armi modernissime, i missili che hanno. Oh, per fare questo ci vogliono un sacco di soldi. Bisogna pagarla questa gente. Qualcuno gli dà lo stipendio. Quanto gli danno? Grosso modo, si dice 500 euro, 500 dollari al mese. Ma sono 70 mila. Moltiplicate per 70 mila. Dategli in mano un mitra e scoprite 70 mila mitra. Dategli in mano i cannoni e vedete quanto viene. Vengono centinaia di milioni di dollari al mese. Da dove vengono questi soldi? Ditemi voi. Vengono dalla Russia? Non mi pare. La Russia li ha bombardati e li ha fatti fuori tutti. Quindi non credo. La Cina? Nessuno ha detto che è la Cina. dall'Iran, nessuno ha detto che è l'Iran, sebbene l'Iran ha partecipato all'altra parte. Ma l'Iran era un nemico di loro. Quindi non credo che abbia portato l'Iran army al Daesh. Quindi chi resta? Chi resta? Per spendere questi centinaia di milioni, miliardi, ci vuole un bilancio dello Stato. Il fanatismo islamico non produce queste cifre. Ci vogliono dei grandi capitali. E chi ha questi capitali? Risposta facilissima perché adesso la sappiamo. L'Arabia Saudita, il Qatar, sunniti tutti gli uni e gli altri. La Turchia, sunniti. Abbiamo le prove. Sappiamo tutto quello che sto dicendo. È tutto documentato. Non è che sto dicendo delle cose che uno dice dove le hai prese. Ma le ho lette, le ho lette sulla stampa americana, mica le ho lette sulla stampa cinese. Gli americani hanno pubblicato le notizie che vi sto dando io adesso. L'Arabia Saudita ha armato il Daesh. La Turchia ha armato, finanziato, organizzato. Io sono stato, mi faccio la domanda, sono stato in Siria nella base di Imim dove c'erano gli aerei russi. Io sono stato con gli aerei russi naturalmente, non è che andavo a farmi ammazzare sul campo di combattimento. Sono andato a vedere, però avevo gli occhi aperti. E mi hanno fatto vedere delle fotografie che loro hanno, con i loro droni, hanno scattato le fotografie dall'alto. Mi hanno fatto vedere dei posteggi automobilistici. Soltanto questa cosa, divertentissima, se non fosse tragica. Dei giganteschi posteggi automobilistici al confine tra la Turchia e la Siria. E io dico, ma che cosa sono questi posteggi? C'erano una cosa con migliaia di automobili al confine, addirittura li avevano asfaltati. Avevano fatto i posteggi asfaltati. E chi erano queste macchine? Erano gli ufficiali turchi che andavano sulla linea del fronte, andavano fino al confine turco, poi passavano il confine, andavano in Siria a combattere con il Daesh. Migliaia, migliaia si vedeva dall'alto con le macchine lì in mezzo al deserto. Non ci possono essere arrivate per caso. Hai capito da che punto siamo arrivati? Quindi abbiamo le prove che la Turchia ha aiutato il terrorismo islamico. Che altro si può dire? Le prove provate. I russi hanno fatto vedere, le avete viste credo anche in televisione, le colonne di autocisterne di Daesh, che pigliavano il petrolio in Iraq e lo portavano in Turchia. Le abbiamo viste. I russi hanno distrutto 20.000 di queste cisterne, 20.000 camion e rimorchio che portavano petrolio in Turchia. Sì, dopo le do la parola. Quindi, le prove del fatto che Daesh è stato costruito dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dalla Turchia, ci sono tutte. Naturalmente non ve lo spiegano bene i nostri media, ma qualcosa dicono. Bene. Allora, Daesh mette le bombe in Europa, ma Daesh è stato aiutato da chi? Dall'Arabia Saudita, dalla Turchia e dal Qatar. Che sono i nostri alleati. Oh, oh, che sorpresa. Noi con l'Arabia Saudita ci commerciamo, gli vendiamo le armi in grande quantità, gli mandiamo gli aerei, gli abbiamo mandato le bombe con cui l'Arabia Saudita bombarda tuttora lo Yemen. Quindi l'Arabia Saudita che taglia le mani ai ladri, che decapita, che impedisce alle donne di guidare l'automobile, eccetera, eccetera. E' un paese molto progressista, è un grande amico nostro, ma ancor peggio. La Turchia è un nostro alleato. La Turchia è un alleato della Nato. E quindi noi siamo legati da un trattato militare con questo paese. E se questo paese, per esempio, abbatte un aereo russo e si mette in una situazione di grave tensione internazionale, noi saremmo tenuti a intervenire a sua difesa. Cioè noi possiamo essere trascinati in guerra da un momento all'altro da Erdogan. Quindi quando uno mi dice, allora il terrorismo è di Daesh, ma io scopro che il terrorismo è fatto da due nostri alleati o amici, allora c'è qualche cosa che non mi quadra. Chi è che guida queste manodopere islamiche a venire a mettere le bombe in Europa? Chi è? Chi sono? E poi aggiungo un piccolo dettaglio. Ma guardate, se voi pensate che i servizi segreti dell'Arabia Saudita e della Turchia agiscano senza che gli americani lo sappiano, si illudono. La Turchia e l'Arabia Saudita hanno servizi segreti che sono delle filiali della CIA. Non sono alleate della CIA, sono delle filiali della CIA. E pensate che circolano sul mercato internazionale miliardi di dollari senza che la CIA o senza che quelli che hanno studiato il Panama Papers non sappiano nulla. Ragazzi, ma bisogna essere proprio troppo ingenui per capire. Se circolano miliardi di dollari, gli americani non possono non saperlo. Gli americani hanno in mano il controllo dello SWIFT, cioè del sistema di interscambio bancario. Controllano tutte le comunicazioni bancarie di questo pianeta, salvo quelle della Cina. Quindi, non mi vengono a dire che nessuno sapeva niente. E io quindi concludo banalmente rispondendo alla tua domanda. Se il terrorismo viene da Daesh, allora noi dobbiamo chiederci chi è Daesh. E siccome sappiamo chi è Daesh, dobbiamo essere molto preoccupati perché chi mette le bombe in Europa sono i nostri alleati. Con buona probabilità. E quindi tutta la storia che ci hanno raccontato sugli attentati di Parigi e di Bruxelles non regge neanche dal punto di vista politico. E bisogna chiedersi come mai i servizi segreti europei non sono capaci di scoprire niente. Poi stamattina apro il Fatto Quotidiano e vedo l'intervista che il Fatto Quotidiano pubblica di uno degli agenti della Cia che ha rapito Abu Omar. Ricordate Abu Omar, sì? E lei risponde apertamente, papale, papale. Ma guardate che una cosa del genere nel centro di Milano non si può fare se la direzione politica dell'Italia non è informata. Lei lo dice. Lei è condannata a quattro anni da un tribunale italiano e sta in questo momento in Portogallo. Se la prendiamo potremmo portarla in galera dopo due minuti. Ma lei dice, ma guardate che lo sapevano. Lo sapevano i vostri, non solo il signor Pollari che guidava il Sisti, ma anche qualcuno dei vostri ministri. E anche più in su lei dice. Bene, allora queste non sono ipotesi peregrine. Quando io dico che bisogna guardare dietro e quando io scopro che questi qui, dei servizi segreti francesi, di cui c'è molto da sospettare, e dei servizi segreti belgi, non scoprono nessuno e nulla e si fanno fregare tutte le volte da questi poveri disgraziati che sono sicuramente le pedine in mano altrui, io sospetto fortemente, ma molto fortemente. Poi quando vedo che esplode l'aeroporto di Zaventem e dopo due minuti esce fuori un filmato che tutte le televisioni del mondo mostrano, l'avete visto anche voi sicuramente, la bomba all'aeroporto di Zaventem. Non era la bomba all'aeroporto di Zaventem. Quello che avete visto è la bomba all'aeroporto di Domodiedevo, Mosca, nell'anno 2011. L'abbiamo già dimostrato. Chi va sulla rete queste cose le trova già tutte chiare come il sole. Allora è lo stesso identico filmato che è stato truccato e viene messo in circolazione il giorno stesso dell'esplosione all'aeroporto belga di Zaventem, cioè di Bruxelles, per dire ecco queste le immagini dell'attentato falso. Chi è che ha fatto questo falso? Primo. Gli inquirenti dovrebbero dircelo. Chi è che ha messo in circolazione questo video falso? La seconda cosa che io domando è come mai non c'è nessuna fotografia vera dell'esplosione dell'aeroporto di Bruxelles? Perché non c'è. Quando è avvenuto? Non mi ricordo più la data esatta. La data esatta? 22. 22, giusto? Esattamente. Allora, l'esplosione delle valigie all'aeroporto di Bruxelles non è ancora stata mostrata mai. Nessuno ha visto questa esplosione. Certo che c'è stata, eh, voglio essere subito chiaro, i morti ci sono stati, ma la domanda che io vi pongo è perché ci avete dato un video falso? Primo. E secondo, perché non ci mostrate quello che le telecamere dell'aeroporto di Bruxelles hanno sicuramente mostrato? Perché quell'aeroporto io lo conosco molto bene, essendoci stato per cinque anni e tutte le settimane per due volte. Ho fatto il deputato europeo e ci sono passato e io so quante telecamere ci sono in quell'aeroporto, perché quando vado in un aeroporto ormai sono abituato dall'11 settembre che guardo dove sono le telecamere. Allora, nell'area dove c'è il check-in è tutto pieno di telecamere, le valigie sono scoppiate nell'area dove c'è il check-in. Come mai non ci hanno fatto vedere le esplosioni? Perché probabilmente c'è qualche cosa che noi non dobbiamo vedere. I morti ci sono stati, ma qualche cosa che non dobbiamo vedere. Per esempio, faccio un'ipotesi, non ho nessuna certezza, che quelli che hanno fatto esplodere le bombe all'aeroporto di Saaventem di Bruxelles non erano dei kamikaze. Sono andati lì, hanno depositato le valigie e poi sono scappati. Uno di loro è scappato sul serio. Abbiamo la fotografia, è stato arrestato ieri. Quindi io non credo che si sono fatti esplodere. Credo che siano esplose le valigie, ma allora bisogna sapere dove sono andati a finire gli altri due che hanno messo le valigie. Ed è per questo che non ci fanno vedere i filmati. Perché da lì scopriremo che sarebbe facile vedere che quelli che hanno fatto esplodere le valigie non sono dei kamikaze. E quindi la storia cambia. Non si sono suicidati. Sono delle persone che sanno come si fanno queste cose. E sono sopravvissuti. Uno sicuramente è sopravvissuto. Gli altri due non lo so. Vediamo. Fra un po' probabilmente scopriremo che sono ancora vivi anche loro. E così via discorrendo. Insomma, più ci inserisci in questa storia, più vedi che le cose non stanno in piedi e sono tutte domande. Naturalmente io non ho nessuna affermazione da fare. Non lo so come sono andate le cose. Io non ho visto quelle esplosioni, quindi non posso dire. Posso fare le mie ipotesi. Ma so per certo che coloro che sanno le cose non le hanno dette. E allora la domanda è, perché non le hanno dette? È chiara la mia posizione? Sì, spero che sia chiara. C'era qualche domanda? Sì. Prima... Chi era? Sì, ha colpito anche me, come penso tutto l'Occidente, questa storia delle cisterne che erano tante. Però voglio dire, le cisterne vanno riempite. Ora, come mai rispetto a, penso alle 100 operazioni militari russe in 10 giorni e penso alle altre tante americane, il massimo risultato ottenibile è Putin che ci fa vedere che c'erano le cisterne e bombarda quelle, mentre rispetto, per esempio, all'esistenza di trivelle, che sono quelle che riempiono poi le cisterne, ci si dice che è inutile bombardarle, perché i tecnici dell'Isis sono talmente bravi a rimetterle a posto. Questo ho letto io. E un'altra domanda, un'intera curiosità, secondo lei, allo stato attuale, quanto è importante per un inviato all'estero conoscere la lingua del luogo. Ci si dice chi? L'importante è sapere chi dice che cosa. Le cisterne, i filmati dei bombardamenti russi sulle cisterne sono numerosissimi, ce ne sono decine dove si vede che esplodono, erano piene, piene di carburante. I russi non sono più i russi di 100 anni fa. I russi hanno dei droni molto efficienti, hanno fatto fotografie straordinarie, ravvicinate, dei bombardamenti, cioè dall'alto bombardavano e sotto c'erano i droni che riprendevano. Quindi abbiamo le prove assolutamente inequivocabili del fatto che Isis trafficava su grande scala col petrolio. Ma in realtà, se vuoi sapere la mia opinione, queste erano le briciole. I soldi sono arrivati dai conti correnti per pagare quelle dimensioni. Questi soldi qui del petrolio andavano a arricchire qualche commerciante, magari il figlio di Erdogan in Turchia, e i capi delle bande. Ci sono adesso sul territorio siriano, e i russi sono lì e li stanno facendo fare la pace, uno per uno. Ci sono almeno 70 gruppi armati, ciascuno dei quali è una banda, con un capo e i vice capi. Quelli servivano, il petrolio serviva a far arricchire questi. Quei soldi andavano a finire sui loro conti in Svizzera, eccetera, eccetera. La corruzione che noi abbiamo in Italia su scala industriale, voi volete che non ce l'abbiano anche loro? Ormai è ovvio, ma il grosso del pagamento dell'esercito del Daesh è avvenuto attraverso i conti correnti bancari dell'Arabia Saudita e del Qatar nelle banche occidentali, che servivano per comprare le armi. Abbiamo anche le prove. Tra l'altro Pandora TV, che io dirigo, ha mostrato le prove documentali del fatto che il Qatar comprava armi in Romania e in Ucraina e le trasferiva direttamente ai ribelli del Daesh. Abbiamo le prove, abbiamo pubblicato le prove, i documenti. Cioè il Qatar usava i suoi soldi per comprare le armi e poi le dava ai ribelli. Quindi il petrolio di fatto, certo, sono svariati miliardi, ma io ritengo che per questa operazione che dura da cinque anni ormai l'Arabia Saudita abbia speso più di due, tre, quattro, cinque miliardi di dollari come minimo. Come minimo. Probabilmente di più. Quindi questa è la mia risposta. Poi per quanto riguarda la domanda sul corrispondente estero, domanda tragica. Noi mandiamo in giro giornalisti che normalmente non sanno la lingua dove vanno a lavorare. Ma quanti sono quelli che vanno là e sanno parlare arabo? Io stesso sono stato lì in qualche misura embedded, sono stato lì sei giorni, ma se volevo capire qualche cosa e parlare con la gente avevo bisogno di un interprete. E come si fa a capire una cosa del genere? Io sono stato vent'anni, corrispondente estero, dico soltanto questo per me, quando un anno dopo, un anno, sei mesi dopo che ero in Russia ho capito che se volevo fare il corrispondente da Mosca dovevo parlare in russo, che non c'era altra possibilità, perché se no avrei letto la Russia in traduzione, che è una cosa comica, perché le traduzioni non risolvono mai il problema. Bisogna conoscere la gente, parlare con la gente, sentire cosa dici, gli umori, capire anche cosa scrivono, eccetera, eccetera. Quindi noi normalmente mandiamo in giro corrispondenti che non sanno la lingua. E quindi dicono delle cose per sentito dire. È evidente, questo è scontato. Purtroppo è così. Grazie. Grazie. Noi stiamo soggiacendo a un ricatto. Il signor, guardate la dinamica, fino a un certo momento le grandi ondate dei profughi passavano attraverso il mare e come sappiamo annegavano in grande quantità, perché attraversare il mare è difficile. E affondavano, morivano. Poi a un certo punto noi abbiamo avuto la svolta, abbiamo avuto il passaggio via terra. E il cambio è stato questo. E da dove sono partiti quelli che sono via terra? Facevano il breve tratto per arrivare in Grecia e poi da lì via. E si attraversava tutta l'Europa. Bulgaria, Romania, Serbia, Ungheria, eccetera, eccetera. Slovacchia, Slovenia, Austria. La grande ondate è passata via terra. E chi è che ha gestito questa operazione? Erdogan. E perché ha gestito questa operazione? Perché fa parte della tenaglia. Serviva per mettere in ginocchio gli europei che non erano pronti a ricevere questa ondate. Si è arrivata addosso un'ondata che non avevamo né previsto, né capito, né anticipato. Di fronte al panico, il panico. La signora Merkel che dice un giorno ne piglia un milione e il giorno dopo chiude le frontiere. Tutti i paesi europei, ciascuno per conto suo, hanno dimostrato, questa operazione ha dimostrato che l'Europa non esiste come entità unica. Non c'è nessuna solidarietà tra europei. È stato un colpo drammatico. È un colpo drammatico alla fisionomia dell'Europa. Alla quale l'Europa esce demolita psicologicamente, moralmente, umanamente. Quindi noi con la signora Merkel che piglia l'aereo, va in Turchia e va a inginocchiarsi di fatto a Erdogan e dice per favore fermaci questo flusso, fermacelo tu. Eh, ti pago. Ti pago. Quindi noi abbiamo un organizzatore del terrorismo che ci mette in difficoltà su due fronti e che praticamente ci costringe ad accettare le sue condizioni. Ma se io dovessi pensare, adesso parlo da italiano, se io avessi un capo del governo che va a parlare con Erdogan gli direi noi a questo punto non ti vogliamo nella Nato. Tu, se vuoi fare, fai quello che vuoi, ma devi uscire dalla Nato. Noi non vogliamo essere vincolati al tuo destino. A parte il giudizio su quello che sta facendo Erdogan con i kurdi che li sta massacrando, eccetera, eccetera. Io sto dicendo, per il nostro interesse nazionale, noi dovremmo dirgli tu stai mettendo a repentaglio la sicurezza mia, dell'Italia, dei miei cittadini, di 60 milioni italiani. Io non voglio venire in guerra con te. Se voglio andare in guerra, semmai discuterò con i miei italiani e sentirò cosa ne pensano, ma non per decisione tua. E invece noi siamo esattamente nella situazione in cui lui può decidere di metterci nei guai. Altro che andare lì ad accettare il suo ricatto. E noi invece l'abbiamo accettato e gli stiamo dando 3 miliardi più 3 miliardi. È una cosa assolutamente che conduce alla fine dell'Europa. L'Europa così merita di finire in pezzi. Questo è quello che io penso. Prima c'era una domanda lì. Mi ha detto, lei del Patacano, parlo di Bruxelles perché io martedì 22 ero a Bruxelles. Non ho visto quello che ha visto lei qui in Italia, però ho visto il canale La 1 e La 2 che trasmettevano i fatti di Zaventen, le bombe, eccetera. E quello che ho riconosciuto era sicuramente il check-in dell'American Airlines. Fatta questa premessa, aggiungo altro. La prealpina, il 23, ha pubblicato un articolo sui cittadini di Busto che erano a Bruxelles e coinvolti. Mio figlio era sullo stesso vagone in cui ha viaggiato quello che si è fatto esplodere a Milbeck. È salito a Merod, Schumann, Milbeck. Siccome è un ufficio lì vicino alla comunità europea, lui ci ha messo davanti alla porta, ha aperto la porta ed è uscito. Dietro di lui c'era quest'uomo grande e grosso con una grossa valigia scura, nera, eccetera. Probabilmente era la valigia con l'esplosivo. E infatti mio figlio è vivo per miracolo perché ha infilato la scala, lui ha aspettato che scendessero i passeggeri e si è fatto esplodere. Quello si è fatto esplodere e mio figlio ha avuto poi la visita della polizia alle 10 di sera e alle 4 del mattino. Quindi non diciamo che la polizia belga è soltanto inefficiente. La polizia belga probabilmente ha fatto degli errori. Però sicuramente alle 4 del mattino si presenta dalla casa di mio figlio con delle foto e gli ha detto che lo riconosce se sì o no, eccetera. E un'ultima cosa, lei si chiede come mai al Bataclan non c'è una foto. Mio figlio nello scendere ha perso la borsa, aveva computer, eccetera, si è trovato con il cellulare. E la foto che c'è al 23 di marzo sulla prealpina nel riquadro orizzontale a tutta destra c'è mio figlio. L'unica cosa che ha avuto in mano era il cellulare, per fortuna, perché così ha potuto comunicare con la moglie e con me che ero a Bruxelles per dire io sto bene. Ecco, questo per dire che lei ha fatto certe affermazioni, affermazioni anche gravi, che io posso anche non condividere. Però sul discorso di Zaventen le dice ma non hanno fatto vedere quello che dicevano le telecamere. Io ho visto, nel senso che sull'Ainda, in quelle ore, dalle 8 e in quarto fino alle 9 e 10, 9 e in quarto, hanno trasmesso tutto quello che stava succedendo a Zaventen. L'ultima cosa che mi stavo dimenticando, mio figlio, cioè quando lei dice non c'è nessuna foto, e ci credo. Quando uno vede l'esplosione, sente le urla, eccetera, la prima cosa che fa è quella di scappare, non di mettersi a fotografare. Grazie. La prima cosa che mi chiede è che mi sarebbe interessante intervistare il suo figlio, perché le cose che lei mi dice sono molto interessanti. Molto interessanti, perché mi potrebbe dire esattamente dove è esplosa, dove c'è stato l'attentato nel metro. Perché la cosa non è niente affatto semplice. Non ci sono foto del vagone che è stato esploso, salvo una. Io perlomeno l'ho trovata, io ho cercato molto su internet. Se ci sono queste cose sarebbero facilmente ritrovabili. Invece io ho trovato soltanto una foto di un vagone sventrato, che però ha una caratteristica che è molto strana. Infatti io non ho ancora scritto di questo perché voglio accertare. Voi sapete che quando andate sulla metropolitana milanese o romana c'è sempre una voce che dice la gente deve stare lontana dalla linea gialla quando arrivano i vagoni della metropolitana. Ebbene, nella foto che io ho visto, perché me l'hanno mandata, in questo caso dal Belgio, si vede una linea vicino al vagone che è stato esploso e che è stato presentato dalla polizia come il vagone saltato per aria. C'è una linea rossa. Allora io vi sono fatto mandare le fotografie della stazione di Baalbek e della stazione Schumann. L'esplosione sarebbe avvenuta tra le due stazioni. Bene, è per questa ragione che io sarei molto interessato a intervistare il suo figlio per sentirmi fare questo racconto, perché non collima con altri racconti che sono venuti dalla polizia. Io sono qui per dire quello che so. Una cosa però mi dispiace, ma devo smettire, non esiste nessuna fotografia della esplosione all'aeroporto di Javentem. Ci sono le fotografie, ci sono le immagini dopo l'esplosione, ma non c'è il momento dell'esplosione. Faccio l'esempio perché sia chiaro a tutti. La prima immagine che ci hanno fatto vedere è l'immagine della esplosione della bomba all'aeroporto di Domodiedovo. Ed è l'immagine presa dalle telecamere di sorveglianza. Si vede la gente che cammina, normalmente, con le valigie, e a un certo punto esplode la bomba. È chiaro? L'esplosione della bomba all'aeroporto di Javentem non è stata mostrata. Abbiamo visto molti filmaggi della gente che scappa, della gente che ha paura, della polvere, eccetera, eccetera. L'esplosione non l'abbiamo vista. Lei dice che le televisioni belghe l'hanno data. Io ho amici che hanno lavorato per me a Bruxelles e mi hanno detto che loro questa cosa non l'hanno vista. Se lei mi dice che questa è stata mostrata dalla televisione belga, andremo a fare le ricerche sulla televisione belga. No, ma sono due cose distinte. Perché la versione ufficiale dice che gli attentatori erano dei kamikaze che si sono fatti esplodere insieme alle valigie. Invece non risulta che ci siano queste immagini, se no si vedrebbe l'attentatore che salta per aria insieme alle valigie. Invece questo non si vede. Allora la domanda è, fateci vedere. Se lei dice che la televisione belga le ha mostrate, sarà l'unica, perché i francesi non le hanno viste, gli italiani non le hanno mostrate, vuol dire che erano tutti molto distratti. Vediamo se i belgi le hanno mostrate. Ripeto, se lei vuol chiedere a suo figlio di essere così gentile e di darmi un appuntamento, io vado anche a Bruxelles a intervistarlo, lo vado a intervistare con la telecamera e mi faccio raccontare la sua versione dei fatti. Ovviamente, io l'ho già detto all'inizio, non penso minimamente che non ci siano state le bombe. Le bombe ci sono state, i morti ci sono stati. Io voglio sapere come e chi ha fatto questi morti. Come e chi. E questo è molto importante ai fini dell'indagine. C'era stato un intervento della polizia dove, in un controllo che doveva essere di routine, si sono trovati davanti a gente con il mitra che ha cominciato a sparare e loro hanno sparato. quello che, e questo poi è successo anche a Möllenbeck, quando hanno arrestato Salah Abdeslam, e guarda caso, ci sono le foto e dovrebbe poterle vedere, la popolazione di Möllenbeck, che in buona parte araba ha lanciato le uova contro la polizia. Questo non so se l'hanno fatto vedere. Comunque è un dato di fatto che penso che sia molto importante. C'era qualche domanda da questa parte? una cosa o da parte, visto che ne conosce bene la Russia e conosce bene l'Occidente, quello che poi ci sono arrivato da soli, qualche povera, come me, diciamo che questo, grazie agli americani, margiamo e andiamo in macchina. perché ho visto un pochino la Romania perché se non era proprio la tua campagna della Russia però di là da come ho capito c'è stata molta palla anche adesso voglio avere carico tutte le contraddizioni per carità però se non altro insomma si festeggia qualche volta visto che lei conosce bene mi ricordo soltanto che la Romania è Europa da 25 anni la Romania è Europa non facciamo confusione e io le sto dicendo semplicemente che la Romania non è Unione Sovietica la Romania si chiama Europa è un paese dell'Europa la Romania ma io so benissimo quello che lei mi dice poi fra un minuto ci viene però non voglio dimenticarmi questa cosa anche qui io vorrei che non ci fossero equivoci io non sto dicendo qui che gli islamici sono buoni che noi abbiamo tutti i problemi dalla parte nostra che loro hanno tutte le ragioni tireranno le uova certo che hanno tirato le uova non stavo parlando di questo non c'è qui nessuna contraddizione tra di noi non parlavo di questo semplicemente il problema islamico è un'altra questione io ho detto soltanto che quello che abbiamo visto sono la mano d'opera che viene utilizzata per fare gli attentati poi dopo la discussione sull'islam la possiamo fare da parte ma le uova non sono parte del mio discorso però visto che lei ha tirato fuori la questione di Salah Abdeslam mi dispiace ma devo contraddirla perché il filmato dell'arresto di Salah Abdeslam io l'avrò visto 20 volte e forse di più me lo sono studiato come se fosse un libro di testo nel filmato di Salah Abdeslam è stato sparato un solo colpo uno solo ed è stato sparato da un poliziotto che ha sparato pare non siamo neanche sicuri nella gamba di Salah Abdeslam quindi non c'è stata nessuna sparatoria ah vabbè no vabbè allora io sto invece io sto parlando delle cose di cui ho parlato fino ad ora delle versioni che non stanno in piedi della fonte allora delle fonti ufficiali allora ho visto questo filmato l'ho visto e non siccome un po' di televisione me ne capisco un pochino non riesco a capire niente perché si sentono in pieno giorno i poliziotti hanno circondato la casa è pieno di poliziotti così il megafono dice vieni fuori a mano alzate perché siamo qui ci stiamo aspettando lui sta alzito per un po' poi senza aprire bocca apre la porta e si mette a scappare sulla strada nell'unica direzione che gli è stata lasciata libera perché c'era un marciapiede tutto sgombro un poliziotto lo insegue gli spari in una gamba lo prendono ma c'è un piccolo dettaglio che lui si comporta come un cretino completo perché se voi si trovaste in una casa che è stata circondata dalla polizia armata non è che scappate aprite la porta e scappate sul marciapiede perché fa ridere va bene fa ridere solo a pensarlo ma il bello è che lei non ha visto Salah Abdeslam lei non l'ha visto non l'ha visto nessuno Salah Abdeslam perché ci aveva un cappuccio in testa e non si è visto dall'inizio alla fine la sua faccia e non si è visto niente perché è stato preso caricato sulla camionetta e non si è visto nulla quindi lei non sa se è Salah Abdeslam io non lo so nessuno lo sa ci dobbiamo fidare di quelli che hanno detto che l'hanno catturato questo è quello che si vede da quell'unico filmato che c'è molto chiaro quindi anche lì se vogliamo tirare fuori la cosa dell'assalto a Salah Abdeslam la cosa è molto poco credibile tra l'altro si nascondeva da 4 mesi a 200 metri da casa sua il più ricercato il cervello di tutti gli attentati si nasconde a 200 metri da casa sua mi sembra anche questo francamente molto poco credibile rispondo alla domanda sugli americani grazie agli americani io dico questo io la Russia la conosco bene in Russia non c'è nessuna fame la società russa è una società molto più evoluta e colta della nostra se lei va a Mosca a San Pietroburgo ma va anche a Rostov sul Don o se vuole in qualunque altro posto scoprirà che i teatri sono pieni di gente tutte le sere della settimana che la gente vive normalmente che mangia non c'è nessun problema di approvvigionamento la Russia è un paese ricco più colto di noi dove si legge cento volte di più che da noi dove la scuola funziona ancora dove l'università funziona ancora l'idea che di questa Russia ci viene data è completamente campata per aria poi la Romania è uscita dalla Russia è uscita dalla Russia è andata a finire in Europa sono 24 anni che la Romania è in Europa nel più grande disastro economico e sociale perché l'Europa gli ha promesso di dargli un sacco di soldi e non glieli ha dati e adesso c'è problema che noi abbiamo un sacco di emigrati rumeni che non sappiamo dove mettere perché le questioni economiche dell'Europa non sono state risolte così come sta per accadere adesso con l'Ucraina dove noi abbiamo fatto un bel colpo di Stato per cacciare il Presidente legittimamente eletto l'abbiamo sostituito con un Presidente che è l'attuale Presidente Poroshenko che ha anche lui un sacco di soldi nei paradisi fiscali e lo vogliamo far venire in Europa ma gli olandesi questa è la descrizione cruda gli olandesi hanno votato l'altro ieri non li vogliono gli ucraini secondo me fanno molto bene e se ci facessero votare anche noi dovremmo dire che neanche noi vogliamo questo paese in Europa perché sarebbe un bel guaio per l'Europa per esempio e quindi come dire la descrizione poi lei dice l'America ci ha dato da mangiare ma io penso che noi ci siamo dati da mangiare da soli noi abbiamo avuto il miracolo economico abbiamo avuto uno straordinario sviluppo non credo che dobbiamo ringraziare gli Stati Uniti d'America per quello che siamo oggi noi siamo stati mi sembra un po' umiliante dire che nel 2016 noi dobbiamo ancora l'America il nostro tenore di vita il piano Marshall è roba di quei tempi e il piano Marshall è stato fatto dall'America per risolvere il suo problema non era un regalo l'America usciva dalla guerra con le sue industrie in piena espansione aveva una valanga di strutture industriali non distrutte la guerra è stata fatta in Europa tutto era distrutto in Europa e loro ci hanno dato i soldi per far funzionare le loro imprese grazie grazie ma hanno risolto il loro problema non credo che noi dobbiamo continuare a dire che se stiamo bene è per l'America e poi aggiungo un'altra cosa ma questo fa parte del tema generale di questo libro siamo sicuri no finisco finisco no perché queste le domande alcune domande ad alcune domande non si può rispondere con una battuta bisogna fare un po' di storia il signore ha sollevato un problema che riguarda la storia 50 anni di storia del dopoguerra e io non posso risponderli con una battuta gli devo dire che in questi 50 anni anzi che nel corso degli ultimi tre secoli noi occidentali tutti insieme europei americani canadesi noi abbiamo rapinato il mondo noi stiamo bene perché siamo stati dei rapinatori su larga scala per tre secoli di seguito è ovvio che siamo un po' più avanti perché avevamo le armi più moderne e abbiamo battuto tutti i nostri avversari con la guerra allora dobbiamo sapere che noi abbiamo fatto così bene male non lo so qualcuno dirà che abbiamo fatto sicuramente bene che noi siamo la civiltà del futuro però il problema è il fatto che il mondo è cambiato e noi non possiamo dire adesso ai cinesi che devono fare quello che diciamo noi è chiaro quello che sto dicendo io faccio un ragionamento non ideologico pratico quando io dico che non si può dire che il ventunesimo secolo deve essere il secolo americano dico che non si può dire perché significa fare la guerra perché a un miliardo e mezzo di cinesi che sono di più di tutta l'Europa messi insieme due volte non gli si può dire come devono vivere perché se glielo diciamo una volta va bene due volte va bene la terza volta si possono anche arrabbiare e allora le cose vanno a finire male così come non si può dire ai russi di vivere come noi vorremmo che loro vivessero loro vivono vivono come ritengono opportuno e quindi nel caso specifico i russi amano il loro presidente non ci piace il loro presidente non ci piace il loro sistema di vita è questione nostra non loro loro a loro piace questo presidente perché il loro presidente è quello che è il rating più alto di tutti i dirigenti politici dell'Occidente messi insieme lo Stato facendo i russi vuole Putin non ci piace mi dispiace non siamo noi che dobbiamo decidere cosa deve piacere ai russi capito questo è il problema prego allora adesso facciamo le tre domande che sono le basse dietro poi prego un un suo collega Antonio Ferrari che è un esperto di Medio Oriente del Corriere della Sera sostiene che la Cina abbia un ruolo molto importante nel finanziamento dell'ISIS cioè che Cina sì che Cina e Arabia Saudita siano i finanziatori dell'ISIS volevo sapere cosa ne penso io credo che io credo che il vero problema grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti.